Oggi non si parla di cose carine su Genshin Impact, purtroppo se siete particolarmente sensibili a certi temi vi consiglio di non approfondire il tema di cui parliamo oggi, ovvero le accuse che sembrerebbero per lo più fondate, rivolte al doppiatore inglese di Tinari, ovvero Elliot Gindi o Gindi, non so come sia la pronuncia, riguardo di condotta inappropriata nei confronti dei suoi fan, che vuol dire tutto, vuol dire nulla. Pornando sempre che sia tutto vero, quindi io metto le mani avanti, andiamo a vedere che cosa è accaduto e quali sono le azioni, cosa potrebbe accadere adesso, contando il fatto che c'è un precedente, di cui però non voglio parlare e entrare nei dettagli. Andiamo con gli articoli, come al solito, ho preso due articoli in italiano giusto per dare un flow alla discussione, uno da Gaming Deputy e uno da Giocareora.com, ma di fatto le fonti le abbiamo tutte qua a schermo e sono le fonti in inglese con tutte le prove che sono state mostrate su Twitter. Ci arriviamo con ordine. Attualmente la notizia che il doppiatore inglese di Tinari, quindi Elliot Gindi, sia stato accusato di condotta inappropriata dei fan è un po' dappertutto. Sia per il fatto che Genshin Impact è chiaramente una grandissima cassa di risonanza per la popolarità che ha il gioco, sia perché i doppiatori che doppiano i personaggi di Genshin Impact non sono proprio doppiatorini. Nel senso, seppur non troppo famoso, anche Elliot aveva doppiato anche nell'anime di Pokémon per dire che aveva fatto Bill. Quindi c'era, comunque c'è, ci sono doppiatori importanti che hanno fatto anche altre opere nel settore, eccetera. Quindi chiaramente questo, unito alla popolarità del gioco, chiaramente mette molto clamore. Che cosa è accaduto? È accaduto che alcuni utenti sul Discord di Elliot si sono sentiti di condividere gli screenshot e le conversazioni con uno dei moderatori, che è Fred Core, il quale ha raccolto tutte le testimonianze e le ha messe su un Google Document, che elenca tutte le presunte trasgressioni da parte di Elliot. Questo è il Google Document. Nel Google Document sono nove pagine di screenshot, nove pagine di messaggi, di comunicazioni, di informazioni, di screenshot in generale, no? Giusto per essere chiari, perché ci sono purtroppo. E questo chiaramente mette nell'ottica, mette chiaramente in difficoltà la situazione del doppiatore, che attualmente è accusato anche di violenza morale sulle vittime, specialmente i minorenni. Che cosa comporta tutto ciò? Cioè lui cosa faceva? Lui, oltre che a questo tweet dove viene detto che lui è sessista, pedofilo, transfobico e tutto, ok, viene appunto accusato di tutto, la parte che viene spesso però sottolineata è il come abbia fatto a indurre ragazze minorenni, quindi non ancora 18 anni, a magari mostrarsi, a magari avere delle situazioni sessualmente esplicite online, è apparentemente il motivo che lui ricattava e minacciava il suicidio per ottenere questo tipo di performance, per vizi, pratiche. Possiamo parlarne, possiamo dire tanti nomi che vogliamo. Di questo passo poi, con tutte queste testimonianze, per l'appunto ha creato da parte del suo moderatore Fatcore, questa presa di coscienza e denuncia online di tutto ciò che è accaduto. E lui sostiene che sia vero al 100%. Ora, ovviamente ci sono stati un po', c'è stata terra bruciata attorno a lui, sono allontanati anche i suoi amici da un punto di vista proprio del lavoro, che erano la doppiatrice di Yuemiya, che è Jenny Yokobori, e il doppiatore del Traveler, Zach Aguilar, che hanno preso le distanze, hanno espresso il loro sostegno alle vittime, e hanno fatto un elogio al coraggio per aver denunciato Gindi, parra Ghindi, e quest'ultimo ha fatto uno statement l'8 febbraio di scusa. Per comodità e velocità la leggiamo in italiano, anche se penso che sia stata tradotta col translator, nel caso andiamo a recuperare qualcosa. Sono profondamente dispiaciuto per coloro che ho ferito, non è mai stata mia intenzione ferire qualcuno. Ho cercato di tenerlo al di sopra del bordo, cioè di non andare oltre. Pensavo che tutto fosse consensuale e sicuro. Ho provato a dire a me stesso che potevo renderlo etico, con una comunicazione chiara e con fini chiari. Mi sbagliavo così tanto e me ne sono reso conto, motivo per cui ho cercato di essere sincero con tutti quelli che conosco, cercare di appunto di sconnettere da tutto e andare a in terapia, a ricevere della terapia. Coloro che hanno creduto in me, mi dispiace di avervi deluso. Si prega di non utilizzare questa, cioè cercate di non utilizzare questa opportunità, questo mio caso, per colpire gli altri membri del cast. Non c'entrano nulla e lui qua chiaramente prende le distanze e ci dice inoltre che va in terapia. Che cosa è vero? E qua fa uno statement di what is true, what is not true. Cioè la sua verità riguarda ciò che è effettivamente reale e quello che non è. C'è da dire che quello che, lo dico prima di cominciare, che quello che lui legge qua e dice che cosa è vero è tutto corroborato dai test logs. Quindi questo non poteva negarlo. Quello che nega dopo può negarlo. Però bisogna vedere perché non ci sono effettivamente le prove. Tutti gli screenshot dei registri del chat sono tutti veri. Sì, tutti i discorsi sessuali imbarazzanti. Se io ho minacciato il suicidio, se fosse venuta fuori questa cosa e apparentemente era quello che si è sembrato anche capire, utilizzava l'arma del suicidio anche per ottenere altre cose. Quindi non ho pensato alla gravità di ciò. Non ho mai voluto forzare nessuno, ho concluso, credevo di aver chiuso le cose ma in verità poi sono caduto in un'altra debolezza emotiva e ci sono ricaduto più e più volte. Qua è tradotto tutto sbagliato. Cosa non è vero? Che ho consapevolmente fatto qualsiasi cosa con i minorenni, che non ho rispettato i cambiamenti di pronome di qualcuno e non stavo aspettando che qualcuno compisse 18 anni. Cioè qua lui dice proprio non sapevo che erano underage, non ho rispettato i pronomi di qualcuno, non è vero secondo lui e non ho aspettato che nessuno appunto avesse la maggiorità. Altre pratiche discutibili. Ci sono volte in cui ho trasmesso in streaming in boxer, ma non è mai stata alcuna intenzione o fatto a termini sessuali. Non mi ero reso conto che potesse essere interpretato in quel modo e mi scuso abbondantemente con chiunque si è stato messo a disagio. Se sei una persona comunque un minimo che sa un po' dell'ambiente, non stream in boxer. Io non ho mai streamato in boxer in vita mia. In costume magari, con un pantaloncino della standa che arriva al ginocchio, ma non in boxer. Inoltre non ho interagito con nessuno nei modi sopra descritti al di fuori delle tre persone con cui ero coinvolto. Quindi lui dice che sono tre persone che... Capisco che quello che ho fatto è stato sbagliato, inappropriato e al meglio delle mie capacità ho cercato di confessarlo a coloro che ho contattato. Ho reagito in modo inappropriato a situazioni in cui mi sentivo desiderato e ho causato danni a così tante persone nel processo. Capisco che le mie azioni hanno delle conseguenze e mi impegno ad accettarle. La mia responsabilità, mentre mi sforzo ad ottenere e fare di meglio. Purtroppo ragazzi, la questione qui è così fatta. Nel senso che quest'uomo ha ammesso tantissime colpe. Quelle che lui dice di non aver fatto chiaramente non sono corroborate dai text log, ma il resto è tutto là. È tutto in quel documento lì. Quindi non c'è tanto da girarci intorno. Poi, il come sia accaduto, il perché, perché abbia patologie, debba andare in terapia, se ha un'opinione, va bene tutto. Però bisogna ricordarsi un paio di cose. Che tu sei una persona che ha contatto col pubblico. Su un gioco così popolare, specialmente da quella fascia di età. Quindi pensare che tu non credevi che queste persone fossero minorenni mi fa un po' sorridere. Perché difficilmente un maggiorenne viene a contattarti perché sei il doppiatore di Tenari e vuole avere un'interazione con te. Sei il suo idolo. Quindi questa è una responsabilità che può essere esclusa. No, scusate, non esclusa, può essere ampliata a tantissime altre sfere. Non soltanto quella del voice acting, ma quella dell'interne in generale, dell'intrattenimento, del content creator. Ci sono delle responsabilità da tenere e comportamenti che vanno tenuti. Il boxer, potevi evitarlo. Perché fare una live in boxer? Potevi tranquillamente evitare quello. Ci sono altre situazioni, chiaramente, che tengono un certo decoro. In un mondo in cui il decoro è sempre meno elegibile, specialmente in queste situazioni. Io so che è un video brutto da fare, è un video con notizie che non... È una situazione un po' del cavolo. Sicuramente verrà allontanato. Non so, la sua vita sarà probabilmente in salita. Da ora in poi. Speriamo che recuperi. Speriamo che le persone che hanno avuto queste brutte esperienze non possano avere danni e conseguenze morali in futuro. E che tutto si ricosorba nel migliore dei modi. State sempre attenti con chi parlate, come lo fate e cosa gli dite. Detto questo, signori, io vorrei sapere che cosa ne pensate voi, ma c'è poco da sapere. Cioè, c'è poco da discutere. La questione è questa. Sono poche opinioni, secondo me. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra cortesia e attenzione. Vi invito a iscrivervi anche sui miei altri social. Sono tutti i giorni live su Twitch. Vi aspetto al prossimo video. E alla prossima live. Vi auguro una buona serata. United State of Zerga. Ciao belli. Sous-titrage ST' 501